Sì, tanti tanti auguri di cure veramente da miei personali, della città di Napoli, della nostra comunità a Papa Francesco per il suo compleanno, 82 anni portati davvero bene, ma quello che è importante è il messaggio del Papa che sin dal primo momento del suo pontificato ha saputo parlare al cuore di tutti, nessuno escluso, valorizzando un nuovo umanesimo di cui c'è tanto bisogno nel mondo in difesa appunto dei beni comuni e sempre parole forti, incisive e chiare per le fragilità del nostro pianeta, fragilità ambientali e fragilità umane.